Da vent'anni patrimonio dell'umanità, sono infatti trascorsi vent'anni da quando il 29 giugno 2002 l'UNESCO riconosceva l'eccezionale valore universale delle città tardobarocche del Val di Noto e per celebrare la ricorrenza il comune capofila di Noto ha voluto riunire i rappresentanti degli enti coinvolti ed esperti di settore per presentare ufficialmente i piani di gestione dei tre siti. Il momento è servito anche per avviare una riflessione sulle iniziative di tutela e rilancio del tessuto ambientale, sociale, economico e culturale del Sud Italia. Svelata una targa ricordo per l'anniversario, dal confronto è emersa la piena consapevolezza dell'innegabile impegno ancora da attuare e potenziare per valorizzare appieno questa ricchezza. Sicuramente c'è un cambio di passo rispetto al passato ma adesso è necessario mettere in sinergia tutti i siti UNESCO, mettere in sinergia le città tardobarocche del Val di Noto attraverso un progetto comune che è quello dei piani di gestione UNESCO. È importante che ci sia anche una strategia che metta insieme cittadini, amministrazioni e operatori economici del settore per rilanciare questo meraviglioso territorio che come dichiarato patrimonio dell'umanità ha un immenso valore dal punto di vista culturale, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista architettonico.